Come sta vivendo la fase emergenziale legata alla pandemia il settore della mobilità turistica? Certamente tra i più colpiti dal fermo delle attività fortemente legato al turismo, il settore è stato e viene ancora oggi messo a dura prova. Abbiamo chiesto a Carmela Rabite della Rabite Bus come stanno vivendo gli operatori questo periodo. Il 23 febbraio è stato un giorno veramente particolarissimo, da quel momento in poi per noi è iniziata la crisi. Che cosa è successo? È successo che noi facciamo tantissimo turismo scolastico e da quel giorno sono iniziate le disdette da parte delle scuole. Quindi tutto quello che era il trasporto e la mobilità turistica rispetto alle scuole è praticamente saltato. Quindi il mese di marzo, il mese di aprile e il mese di maggio naturalmente. Quindi saltando il trasporto legato alle scuole è saltato alla stagione. A questo punto che cosa succede? Per noi, per quanto riguarda il turismo scolastico, significa ripensare già alla stagione 2021. Per quanto riguarda invece tutte le altre attività che noi facciamo con i nostri puno, il trasporto religioso, il trasporto dei gruppi, il trasporto di gruppi che vengono dall'estero, praticamente è tutto bloccato. Cosa succederà in futuro? Questo è tutto quello che è successo nella fase 1. Quello che succederà nella fase 2 ancora non lo sappiamo. Stiamo seguendo in questo momento solo convegni e incontri. Parliamo tra colleghi in continuazione per capire quali sono i probabili e futuri scenari che possono prepararsi nei prossimi mesi. Ma onestamente nessuno di noi sa che cosa succederà. Quindi si parla di turismo di prossimità. Certamente non avremo le scuole di nuovo a settembre. Certamente le riavremo. Speriamo di riaverle sui nostri pulmon per fare didattica anche a bordo dei nostri pulmon come l'abbiamo fatto negli anni passati dalla prossima primavera. Però tutto questo è in divenire. Quindi non sono in questo momento in grado di dire che cosa succederà. Certamente noi speriamo di riprendere le nostre attività. I nostri pulmoni in questo momento sono tutti fermi. Quindi non abbiamo nessun tipo di movimento. Quello che ci auguriamo e che cosa è successo? È successo che il turismo nell'ambito del trasporto, tutto il trasporto, la mobilità turistica si è fermata come si è fermato tutto il turismo. Il turismo è quello che si è fermato per prima e molto probabilmente sarà l'ultimo a ripartire. Qualcuno dice che ripartiremo nel 2021, addirittura qualcuno fa ipotesi del 2022. Noi non lo sappiamo. Stiamo aspettando che il governo ci faccia comprendere bene che cosa succederà, quali saranno le possibilità, se ci sono degli ingendivi. Ma onestamente in questo momento stiamo fermi, ma non fermi perché non ci muoviamo. Stiamo fermi ma stiamo nello stesso tempo lavorando perché stiamo investendo tutte le nostre energie a comprendere quello che dovremo fare appena ripartiremo. Per il turismo la fase 2 ancora non è la partenza. Io spero che ripartirà qualcosa sull'estate, però onestamente in questo momento ancora non è certo nulla. Tutto quello che è mobilità, tutto quello che è mobilità che avviene attraverso i mezzi di trasporto, che sia quello aereo, che sia quello ferroviario, che sia quello degli autobus, ci dà la possibilità di muovere da una parte all'altra dell'Italia, dei continenti, masse di persone che si muovono in turismo. Questo si intende per mobilità turistica. Quindi il trasporto su gomma, che è quello che avviene in Basilicata, è praticamente la percentuale più alta perché sono tante le aziende. In questi giorni noi ci sentiamo soprattutto con una serie di colleghe che come me fanno questo lavoro ed è un aspetto che ci confrontiamo, ci parliamo. Noi siamo bloccati, ma siamo bloccati non perché vogliamo farlo noi, ma perché non c'è nessuno che in questo momento si sta muovendo. Quindi la mobilità turistica è veramente uno degli elementi essenziali del turismo, ma non solo in Basilicata, ma in Italia in generale. Noi speriamo che qualcuno si renda conto di questo, perché molto spesso ci rendiamo conto che siamo un po' trasparenti. Cioè quello che è il trasporto su gomma viene praticamente ignorato, è quasi come un appendice del turismo. No, non è così, non è un appendice del turismo, ma un elemento, uno degli elementi fondamentali. Cioè come ci sta l'albergo, ci sta il trasporto, così ci sta il ristorante. Quindi non dobbiamo assolutamente dimenticarci di questa situazione. In Basilicata siano tante le aziende, ci sono più di 200 addetti. Quindi questo significa che attorno a questo mondo ci sono tante famiglie, tante famiglie che dipendono da questo lavoro. Per cui noi ce la stiamo mettendo tutta, però stiamo aspettando di vedere quali sono i scenari futuri.